non rischiare di trovarsi di fronte anche la polizia. Tutto questo l'hanno fatto una cinquantina di tifosi, se così si può dire, polacchi, che la scorsa notte hanno tenuto in ostaggio il quartiere della Marina dopo la partita che il Cagliari ha vinto in casa contro i polacchi appunto del Pogon. Al termine dell'incontro i supporti stranieri hanno raggiunto via Caburra e via Lepanto ed è stato subito guerra, esaltati ubriachi contro cagliaritani e mermi. Si sono imbattuti poi in un gruppo di tifosi rosso-blu e la situazione è ulteriormente degenerata. Ne hanno fatto le spese soprattutto i ristoranti della Marina i cui arredi esterni e stoviglie sono diventati armi. I danni peggiori a succumbido di mare. Nessun locale è stato danneggiato all'interno dove clienti e personale si stavano.